Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema di ricotta e cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono ricotta, latte, farina di tipo 00, zucchero, uova, vanillina, scorza di limone e cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza di limone, la vanillina e la cannella. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Iniziamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. E azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la ricotta, la farina e il latte. e facciamo cuocere per 7 minuti a 90 gradi a velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in delle coppette e lasciamola intiepidire. crema di ricotta e cannella, ideale per farcire torte, crostate, bignè, oppure come dolce da mangiare al cucchiaio spolverizzando con un po' di cannella. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!